Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Dogane di Foggia, su autorizzazione della Procura, hanno promosso la cessione all'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo al Policlinico Riuniti di Foggia e all'Istituto Zoo Profilattico di Puglia e Basilicata di 8.000 litri di alcol etilico per la produzione in house di prodotti per la sanificazione di ambienti ospedalieri e laboratori clinici. Il prodotto, devoluto a titolo gratuito, proviene da un incente sequestro penale eseguito nel 2020 dai finanzieri di Manfredonia, nel corso di un'operazione di pulizia a contrasto del traffico e lecio di prodotti alcolici immessi in commercio nella provincia senza assolvere le imposte dovute, ossia IVA e accise. In relazione al stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, vista anche la carenza sul mercato di alcol etilico, da alcuni enti ospedalieri della provincia è stata avanzata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia l'esigenza di poter ricevere alcol etilico per la realizzazione in house di preparazioni galeniche per la sanificazione dei presidi ospedalieri dei mezzi sanitari di soccorso, nonché dei propri laboratori clinici. La richiesta è stata promossa alla competente procura di Foggia, che ha dissequestrato e disposto la cessione gratuita del prodotto destinato alla confisca, mentre l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Foggia, ha rilasciato la necessaria autorizzazione al trasferimento e al successivo impiego di alcol etilico, oggetto di sequestro giudiziario, per la produzione di soluzioni per la sanificazione degli ambienti sanitari. 5.000 litri sono stati donati all'ospedale Casa Sollievo e la Sofferenza di San Giovanni Rotondo, 2.000 agli appoliclinici riuniti di Foggia e 1.000 litri all'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, con sede a Foggia.